Bene bentornati in questo nuovo video, buon anno 2020 da Mauro Caimi di Trading On, auguri a tutti quanti che sia un anno stracolmo di satoshi, stracolmo di crescita, stracolmo di bitcoin e di opportunità di gain ma anche perché no di buonsenso finanziario ragazzi che non guasta mai. Vi avevo lasciato ieri con il video di augurio per la fine dell'anno con l'atteggiamento del mercato di bitcoin, di quello che ha fatto nel 2019 e cosa ci ha insegnato e cosa ci ha portato ad aspettarci per l'anno 2020. Andiamo però a vedere il risvolto della medaglia perché è una considerazione chiaramente positive, andiamo a vedere il risvolto della medaglia per il mese di gennaio. Inizia il 2020 e inizia il mese di gennaio. Il mese di gennaio ragazzi statisticamente è un mese un po' bastardo diciamolo così in maniera abbastanza chiara perché è un mese difficile per i mercati delle criptovalute. Si ripeterà quello che è stato nella storia, adesso lo vedremo graficamente, andremo a vedere che praticamente spesso, se non per dire quasi sempre, il mercato di bitcoin reagisce male al mese di gennaio. Ci sono delle motivazioni, questa cosa vale anche nei mercati old per una serie di motivi. Andremo però a vedere se quest'anno 2020 effettivamente potrà essere o meno un anno di eccezioni a questa regola statistica, poi è un fondamento di natura fondamentale, si dice così, di analisi fondamentale. Quindi andiamo a vedere cosa succede a gennaio di ogni anno, analizziamo perché succede questa cosa ogni anno e se quest'anno, cioè questo mese che stiamo per iniziare, può effettivamente essere un mese di eccezione. Ci spostiamo sul grafico, un'informazione molto importante perché ci dà già un'idea di quello che possiamo aspettarci quando nel mese di gennaio, quindi in tutto il mese, magari possiamo anche impostare, perché no, qualche operazioncina di trading a inizio mese da chiudere al 31 di gennaio. Ok ragazzi, siamo qui davanti al grafico e vi ho messo in evidenza il mese di gennaio perché questo è un grafico di natura mensile, ragazzi. Allora, intanto, per i più, diciamo, quelli che vedono il grafico in maniera più, diciamo, veloce, tutte le candele sono praticamente rosse, le vedete in maniera abbastanza chiara, tranne questa, che poi andremo a vedere, che è l'anno 2013. Quindi, per avere un gennaio positivo, verde ragazzi, per avere un gennaio verde, dobbiamo risalire al gennaio dell'anno 2014 con un più 9,70% di bitcoin, che però ragazzi veniva da un meno 35 del mese di dicembre. Quindi è un rimbalzino in questo caso. Andiamo ancora dietro nel tempo e solo, solo, nel 2013 e 2012 abbiamo delle vere candele verdi, quindi nei veri mesi rialzisti importanti. Soprattutto il 2013 perché il mercato ci fa un più 55% circa e poi il 2012 che ci fa un più 15%. Quindi su tutte queste analisi utilizzate, ragazzi, su circa 8 anni analizzati, soltanto 1 è degno di nota, ragazzi, con un più 54%. C'è anche questo qui che potremmo includere un più 15% nel mese di gennaio. Gli altri che sono, in sostanza, 1, 2, 3, 4, 5, è questo ragazzi che è un rimbalzino del gatto morto, lo mettiamo come neutrale. Quindi 5 negativi, 2 positivi, 1 neutrale, quasi nullo, diciamo perché era un meno 35 del mese prima che poi si risolvono un più 9. Allora, cosa insegna la storia e la statistica? Insegna che nel mese di gennaio è un mese ad alta probabilità negativa. Abbiamo un circa 62-63% di probabilità che il mese di gennaio sia negativo, mentre soltanto un 20-25% che sia positivo o neutrale. Allora, il problema dov'è? Poi la stanta parte è neutrale, quel 10%. Però il problema dov'è, ragazzi, è che il numero delle rilevazioni, in questo caso, statisticamente, sono poco rilevanti. Perché? Perché sono solo 8 anni, quindi questo è il nono che sta, diciamo, iniziando oggi. Però sono poco rilevanti questo tipo di informazioni al momento, però un po', insomma, di logica ce l'hanno, ragazzi. Certo non possiamo aspettare 400 anni per avere un'idea di che cosa succede a gennaio, quindi è inutile andare a vedere la statistica, in questo caso, di significatività, la regola statistica della significatività, perché non si può applicare in questo caso, non sarebbe applicabile. Per un po' di logica ce l'hanno. Allora, questo gennaio del 2020 ha il 62%, 63% di probabilità di essere negativo. È anche vero che, però, ragazzi, bisogna ragionare un po' su quelli che sono stati questi mesi negativi. Andiamo a vedere perché sono stati negativi, non soltanto, ecco così, analizzare i numeri in maniera alla cieca, andiamo a vedere il motivo di queste cose. Allora, intanto, nei mesi positivi, nei mesi negativi, ragazzi, quelli in poi, diciamo, che iniziano nell'anno 2015, vediamo che ci sono due tipi di atteggiamenti diversi. Allora, l'anno, il mese di gennaio è o un mese conclusivo o un mese di riflessione, quindi nel momento in cui è un mese conclusivo fa il minimo dell'anno. Fa il minimo dell'anno che è un minimo ciclico, in questo caso, e poi lo fa con una bella botta, ragazzi. Quindi qui nel 2015 ci fa un meno 32. Qui invece, nell'anno 2016, il minimo, in questo caso, è sempre un minimo conclusivo, ma di un trend rialzista, vedete, perché il trend era rialzista. Ora, qui è poco pronunciato perché sono mesi questi, ragazzi, però la distanza è molto rilevante da qui a qui, in termini percentuali, quindi non badate, diciamo, al grafico in questo caso, perché magari si vede poco. Però questo meno 14 dell'anno 2016 è un momento di riflessione, ma anche di chiusura ciclica, ragazzi, perché è proprio quello che fa. Quindi questo è un ciclo, vedete, che si chiude qui. Dopodiché c'è un altro ciclo annuale che si va a chiudere esattamente qui. Quindi gennaio, ancora una volta, un mese di chiusura ciclica, però in questo caso, come nell'anno 2017, anno della Superbolla, è un meno 0,24, quindi è una chiusura ciclica estremamente poco rilevante. Perché? Perché semplicemente, ragazzi, il mercato stava iniziando la Superbolla che avremmo poi vissuto tutti quanti e quindi, insomma, è stato poco rilevante. Ancora una volta, gennaio rappresenta, nell'anno 2017, la chiusura ciclica, vedete, del ciclo 2017, che però non avviene a gennaio, bensì a febbraio, quindi allunga poco poco. Comunque, anche qui, in questo caso, gennaio è molto negativo perché è il mese proprio prima della chiusura ciclica, quello del cambio trend, quindi ci fa un meno 30%, vedete. Nel momento in cui andiamo avanti, nell'anno 2018, l'anno dell'orso sui mercati delle criptovalute, andiamo a vedere che in questo caso gennaio è negativo, sì, meno 8%, ragazzi, ma non è il mese del minimo ciclico perché è stato spostato, in quel caso il minimo ciclico avviene al dicembre del 2018. Quindi questo mese di gennaio continua la sua fase negativa, quindi la enfatizza comunque, continua la sua fase negativa perché è un mese statisticamente difficile per i mercati e però lo fa di poco, perché? Perché non va a rompere i minimi del dicembre 2017. Arriviamo alle conclusioni. Allora, intanto, l'atteggiamento dei mercati nel gennaio di ogni anno è pressoché volatile ribazzista, perché ragazzi, tutti i fondi finanziari, quelli grossi hedge fund, quelli che fanno le loro manovre, si riposizionano a gennaio dopo tutto quello che è avvenuto, per esempio, a dicembre. Quindi loro, in sostanza, prendono profitto da una serie di posizioni. Prendendo profitto da una serie di posizioni, scatenano un po' la volatilità del mercato perché sono quelli che controllano il mercato, che hanno i grandi fondi, che hanno i grandi soldi, quindi se vanno a vendere, per esempio, delle stocks o dei mercati obbligazionari, insomma, si vede un po' di volatilità sul mercato azionario, sul mercato regolamentato. La stessa cosa avviene anche su Bitcoin, perché probabilmente in alcuni anni dopo il mercato aveva raggiunto grandi livelli di quotazione, come ad esempio nel 2017, poi nel 2018, gennaio, febbraio, hanno preso profitto tutti quanti per vedere quello che accadeva. Poi è andato down il mercato, e quindi non hanno, diciamo, non si sono riposizionati long sul mercato. Cosa che invece hanno fatto, per esempio, nel 2018, e quindi hanno usato gennaio come un modo di guardare al mercato, per esempio, guardatelo qui di nuovo, quindi è un paesemente una fase di riflessione, un mese di riflessione, per poi assumere posizioni rialziste per fino a giugno dell'anno 2019. Quindi, in sostanza, l'atteggiamento di ribasso e il fatto che il gennaio sia un momento, diciamo, un mese estremamente complicato, è abbastanza comune, ragazzi, è abbastanza semplice, è anche, purtroppo, fondato su delle cose che sono effettivamente realistiche, però non è sempre così. Questo dobbiamo anche ricordarcelo, quindi non è che sia capitato, diciamo, in tanti casi sarà sempre così. Certo, sui mercati old, ragazzi, questa cosa che almeno aumenta la volatilità, insomma, è abbastanza comune, difficile che non sia così. Però, andiamo a vedere, per esempio, cosa aspettarci per quest'anno, per l'inizio di questo gennaio del 2020. Andiamo ad analizzare gli ultimi mesi, quindi quello che sta chiudendo oggi, praticamente, che è il mese di dicembre. Andiamo a vedere quello che sta facendo. Allora, intanto, ragazzi, questa candela è una hammer mensile, ok? Allora, per chi di voi non sa che cos'è una hammer, è un martello. Vi ricordate Thor, ok? Ragazzi, questo è un martello. Se la guardate bene, vi rendete conto che assume la forma di un martello, con il manico da sotto e la, diciamo, testa del martello sopra, va bene? La hammer è una figura di inversione di trend, cioè una figura di conclusione di un trend di bassista. Nel momento in cui abbiamo una hammer su un mercato mensile, lo dobbiamo comunque considerare. Perché? Perché, ragazzi, potrebbe essere significativa anche del fatto che il mercato ha raggiunto il suo minimo. Ma, badate bene, lo abbiamo anche qui. Vedete, questo livello di minimo assume lo stesso tipo di configurazione da analisi tecnica. Vedete la figura? La figura è una specie di hammer un po' meno, diciamo, pronunciata rispetto a questa. Questa è proprio schiacciata, quindi è un hammer praticamente pulitissima. Un hammer sempre rossa, magari non verde, però è un hammer pulitissima. Quindi, due cose che potremmo aspettarci dal mese di gennaio, ragazzi, guardando questo grafico. O di avere un atteggiamento come quello del mese del gennaio 2019, quindi un leggero ribasso, ma che non va a rompere i minimi, per esempio, di questa candela, che sono intorno, adesso vediamo su Bitstamp come ci dà questi minimi, perché io ricordo quelli di Bitfinex, qui solo 6425, vabbè, più o meno similari, quindi 644, in sostanza, non mi va a rompere questo livello. Perciò potremmo avere un mese di gennaio che fa una riflessione e magari si muove all'interno di questa fascia di prezzi. Quindi qui dentro, ragazzi, tra i 7300 e i 6700, insomma, più o meno come oscillazioni. Quindi una fase di piccola oscillazione che però, ragazzi, non è neanche proprio piccolissima in termini percentuali, perché in termini percentuali siamo intorno al 10%, 9-10%, quindi in sostanza un remake di questo che era il mese di gennaio 2019. Se dovesse effettivamente fare una cosa del genere, potremmo assistere a questa fase di consolidamento del ribasso, però senza nuovi minimi, ragazzi, senza nuovi minimi. Allora, questa è, secondo me, una probabilità abbastanza alta. Quindi magari potremmo avere effettivamente un mese di gennaio che ancora una volta risulterà magari negativo, però neanche tanto. Quindi magari non aspettandoci questo atteggiamento che è un meno 30%, meno 27%, ok? Ma aspettandoci un atteggiamento più leggerino che magari ci vada a fare questo tipo di movimento. Quindi una candela costruita così molto similare a questa, vedete? Leggermente negativa. C'è però anche l'altro risvolto, ragazzi, che il mercato vada in realtà a fare quella famosa eccezione, quello che faceva magari in questi tipi di anni, quelli precedenti, quelli iniziali, perché magari è sceso tanto e magari siamo in questa fase. Quindi potremmo assistere ad un gennaio leggermente rialzista. È difficile che il mercato da qui ci spari magari un più 50%, perché la vedo un po' difficile. Però c'è un livello che va monitorato proprio di analisi tecnica ed è importantissimo da fare che è il massimo di questa candela. Quindi sono i famosi 7800 dollari circa. Quindi questo massimo della candela mensile del dicembre 2019 assume un grandissimo rilievo. Quindi gennaio 2020 cosa farà per concludere questo video e le nostre conclusioni? Starà probabilmente, ragazzi, all'interno di questi due range 7800-6400 e tenterà magari o di assumere probabilisticamente questa forma, difficilmente avrà la forza di rompere i 7800. Se lo fa, beh, venga ragazzi, ok? Questa è quello che ci insegna la statistica. Quindi un mese di gennaio che potrebbe ulteriormente essere negativo, sì, ma di poco magari intorno al 6-7%, quindi senza grandi sconvolgimenti rispetto ai prezzi attuali. Quindi, statistica contro realtà. Ci aggiorneremo a fine mese e vedremo quello che sarà successo. La statistica ci dice questo, la realtà ci dice seguite sempre il trend, ragazzi. Se siamo sopra i 7800 fate attenzione perché potrebbe essere un bel punto di ingresso a prescindere dalle statistiche del mese di gennaio. Certo è che se non sale sopra quei livelli oggi dista abbastanza dei 7800 questo tipo di atteggiamento potrebbe essere comune. Operazioni da trader? Beh, bensì, ce ne sono tante, ragazzi. Ci sono le operazioni che si possono fare con dei piccoli short entrando proprio ai prezzi attuali. Possiamo avere già un'idea di quello che è lo stop loss. Per esempio, 7800 è uno stop loss se fate uno short e poi dei livelli target perché no? 6700 è un livello target quindi abbiamo impostato con una sola analisi tutto quello che si può fare nel mese di gennaio. Ragazzi, analisi tecnica come sempre non serve a niente come dicono moltissimi che non hanno magari una grande formazione sul trading. Ciao a tutti buon 2020 di nuovo da Mauro Caimi forza e coraggio sui mercati e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!